Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Oggi è il giorno di Vicenza Spal, si giocherà fra poco in Serie B, torna nei bianco-azzurri a giocare per conquistare tre punti che mancano da molto. Ai ferraresi ne parleremo a breve, sentiremo Marino nelle parole pre-partita, ma dovremo parlare anche del passaggio dell'Emilia Romagna in zona arancione. Sarà domani il giorno del passaggio da zona gialla a zona arancione, quindi ci saranno nuove restrizioni che ormai abbiamo imparato a conoscere. Parleremo anche molto di economia in questa edizione, ma dobbiamo partire dalla cronaca perché non si fermano i controlli della Guardia di Finanza nei confronti di chi ha chiesto aiuti economici in questa fase emergenziale scoperti in totale circa 15.000 euro che sarebbero stati ottenuti indebitamente. Le fiamme gialle di Comacchio hanno pizzicato otto nuclei familiari che avrebbero ricevuto illegittimamente circa 9.000 euro di contributi. I finanzieri li hanno definiti furbetti perché avrebbero chiesto e ottenuto il bonus affitti in questa emergenza Covid seppure ricevessero già il reddito di cittadinanza tra i requisiti del bonus. Infatti c'era quello di non ricevere questo tipo di sussidio. Ora dovranno pagare una sanzione che va dagli oltre 5.100 euro ai quasi 26.000 euro. Fra le decine di posizioni esaminate la Guardia di Finanza ha scoperto e denunciato anche un imprenditore di una ditta individuale di Portomaggiore che avrebbe chiesto e ottenuto in modo illecito un finanziamento di circa 7.000 euro, finanziamento garantito dallo Stato e sarebbe stato ottenuto questo finanziamento con documentazione falsa. Il denaro ricevuto secondo le fiamme gialle poi non sarebbe stato investito nell'impresa che era uno dei requisiti per ottenere questa garanzia dallo Stato per i finanziamenti. Nel frattempo poi l'azienda è stata anche chiusa quindi ripetiamo la Guardia di Finanza da tempo sta facendo questo tipo di controlli ormai da un anno a questa parte. Un altro fenomeno che non accenna a fermarsi nel Ferrarese è quello delle truffe, soprattutto agli anziani una signora di 70 anni è stata truffata l'altro ieri con la tecnica del finto incidente stradale contattata telefonicamente da un sedicente avvocato. La donna si sarebbe fatta convincere a consegnare 500 euro in contanti e circa un etto di 100 grammi di monili d'oro a una complice del truffatore. Questa sarebbe stata la cauzione per far uscire di caserma il figlio accusato di aver provocato un grave incidente stradale. In verità l'episodio era tutto falso, il figlio stava bene e non aveva provocato nulla. e quando hanno scoperto sia il figlio che la madre di essere stati truffati hanno contattato la polizia che ora sta tentando di identificare gli autori di questa truffa. L'ennesima, insomma, continua intanto però anche la campagna di sensibilizzazione da parte della polizia, soprattutto appunto dei confronti degli anziani che sono un po' i soggetti più deboli in questo fenomeno. Sentiamo allora il questore Stenze, Cesare Capocasa, che dà alcuni semplici consigli per non incappare in questo tipo di truffa. Non aprire la porta della propria casa agli sconosciuti, chiamare subito un parente o il 113. E quando si dicevano telefonate con richiesta di denaro, interrompere immediatamente, chiamare un parente o il 113. Per qualsiasi esigenza, per qualsiasi necessità e per qualsiasi riserva mentale che una persona possa avere, chiamate comunque la polizia di Stato, chiamate il 113, che siamo pronti chiaramente ad intervenire e ad evitare quelli che sono spesso truffe che adesso anche in era Covid si sono anche declinate attraverso i funzionali dell'Asda che vengono a fare i tamponi a casa. Non è vero, anche questa è un'altra truffa attuale, ma assolutamente non rispondente ad alcuna realtà. I tamponi a casa non li vengono a fare suonando, ma chiaramente con ben altro tipo di percorso. Come detto però dobbiamo parlare di sport e di SPAL, manca poco a Real Vicenza SPAL bianco-azzurri che vogliono tornare a vincere in Serie B dopo diverso tempo, dopo diversi pareggi, anche qualche sconfitta. L'occasione potrebbe essere appunto contro i Veneti alle 14. Vi ricordo che potrete seguire aggiornamenti e commenti durante match su Telestense con Nicola Franceschini e i suoi ospiti intanto. Prima della partita ha parlato l'allenatore bianco-azzurro Pasquale Marino che chiede ai suoi giocatori di far vedere tutte le loro qualità. Sicuramente dobbiamo fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto ultimamente, per cui ci aspettiamo passi avanti. La squadra è consapevole che la battuta d'arresto che abbiamo avuto col Pordenone secondo me ha influito sul morale e di conseguenza dobbiamo cercare di cominciare a dare continuità di gioco per arrivare al risultato. Quali sono le insidie che nasconde la gara? L'insidie che affrontiamo un avversario forte che a gennaio ha fatto qualche altro ritocco. Hanno un reparto offensivo numericamente e anche qualitativamente forte. Una squadra organizzata. Nell'ultimo periodo hanno cambiato 4-5 partite anche il sistema di gioco. Hanno aumentato la forza offensiva che giocano con due attaccanti più il trequartista. Ed è una squadra molto organizzata. C'è ancora questo problema delle gare esterne? Diciamo che l'ultima partita esterna che abbiamo fatto a Cosenza a me non è dispiaciuta anche perché l'avevamo anche vinta. Quindi non è stata una brutta prestazione. Soprattutto siamo usciti a fare molto bene nel secondo tempo. Per cui non possiamo più pensare a questo. Non ci deve essere condizionamento. Anche perché purtroppo a volte sembra che non sia solo il fatto di in casa fuori. Come ho detto prima, magari qualche partita che facciamo su buoni livelli incosciamente poi abbassiamo un po' la tensione e lo paghiamo. Però, ripeto, adesso, come ho detto prima, c'è poco tempo per pensare a tante cose. Bisogna agire, bisogna fare i fatti e non andare a cercare sempre qualcosa che non va da parte nostra per cercare di qualche attenuante che non ci deve essere. Perché la verità è che il pubblico non c'è. Per cui in casa e fuori cambia poco. Le misure più o meno sono sempre le stesse tra il nostro campo e quello che c'è fuori casa. E quindi dobbiamo pensare a tirare fuori il meglio di ognuno di noi. La qualità che abbiamo. E soprattutto di dare il massimo. Abbiamo l'opportunità di fare qualche cambio in più rispetto alle altre stagioni. Per cui bisogna chi va in campo, anche se non è in condizione, quel poco che fa da mezz'ora, cinque minuti, un'ora, deve fare tutto al massimo dell'intensità. Così si cresce, così si trova la condizione, anche da parte di chi ha giocato meglio. E la parola, quindi, adesso passa al campo. Vi ricordo subito dopo il telegiornale. Ci sarà match su Telestense per seguire Real Vicenza Spal con match appunto Nicola Franceschini, i suoi ospiti. Potrete anche voi commentare e seguire tutti gli aggiornamenti sia in tv che sul nostro sito, su Instagram e anche sulla pagina Facebook. Ma adesso dobbiamo parlare della notizia che ha cambiato un po' la vita di tutti noi in queste ultime ore. Il passaggio in fascia arancione della regione Emilia-Romagna a partire da domani, domenica, verranno inasprite, lo sappiamo purtroppo, con le restrizioni, con il passaggio da giaglia ad arancioni. Ma sentiamo come è stata presa questa decisione, perché è stata presa questa decisione e cosa non si potrà più fare a partire da domani. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. L'Emilia-Romagna passa in area arancione insieme a Campania e Molise. Lazio e Lombardia rimangono gialle. Da giorni la giunta regionale, prima l'assessore Raffaele Donini e poi il Presidente Stefano Bonaccini avevano espresso dubbi sul sistema della colorazione delle regioni e chiedono che con l'arrivo delle varianti servirebbe a loro dire una valutazione diversa rispetto appunto alla colorazione. Da domenica compresa, quindi tornano nel ferrarese come in regione regole più distrittive. Ricordiamo che lo scorso passaggio da arancione a gialli avvenne di lunedì. Quindi dal 21 febbraio compreso stop alle uscite fuori dal proprio comune, salvo le eccezioni entro 30 chilometri per i comuni che contano meno di 5.000 abitanti, bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti non potranno più ospitare clienti se non per il tempo necessario al ritiro dei prodotti d'asporto possibile senza restrizioni dalle 5 alle 18. La consegna di cibo a domicilio per i ristoranti invece è libera. Rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali a eccezione delle farmacie e dei punti vendita di genere alimentari all'interno. E' l'unico modo per uscire da questa situazione e vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile. Per questo è stato aperto il cantiere alla Pandurera di Cento per realizzare il centro vaccinale anti-Covid. 5 box per 5 postazioni per la vaccinazione, un triage di accoglienza e due aree di attesa per le fasi pre e post vaccinazione. Obiettivo aprire le vaccinazioni alla Pandurera di Cento dal primo marzo prossimo a pieno regime. Si sarebbe in grado di arrivare a vaccinare fino a 600 persone in un giorno. Qua trattiamo ovviamente l'area dell'Alto Ferrarese mentre da lunedì a Ferrara si partirà in Fiera dove qui l'obiettivo è raggiungere 2000 persone vaccinate in un giorno. Adesso però parliamo di un'iniziativa che riguarda i farmaci e riparte con una squadra rinnovata il progetto farmacomico. Da qualche giorno infatti i farmaci non scaduti ma non più necessari cioè che si trovano nell'armadietto delle medicine di casa che giungerebbero inutilizzati a scadenza questi possono trovare una nuova destinazione e una nuova utilità grazie all'impegno di diverse realtà sul territorio estense tra cui Last Minute Market ed ERA. Sentiamo. ERA lancia questo progetto insieme agli altri partner non come novità ma come ripresa di un progetto che era attivo ed è attivo tuttora su tantissimi altri territori di ERA proprio di recupero di questi farmaci ancora utili come progetto di solidarietà progetto di recupero quindi di beni ancora utili quindi i farmaci non sono più rifiuti quindi non sono considerati rifiuti ma sono ancora beni quindi il cittadino ha questa possibilità di riutilizzare i farmaci e portarli nella farmacia nel contenitore dedicato anziché depositarlo nel contenitore per i farmaci scaduti. I farmaci devono avere dei requisiti ancora diciamo di perfetta conservabilità avere una scadenza non inferiore ai sei mesi vengono quindi portati in una delle farmacie nel progetto e si dà così vita utile a questo prodotto che non diventa un rifiuto ma diventa un bene quindi un progetto di solidarietà e un progetto di vera economia circolare che salvaguarda l'ambiente. Solitamente vengono recuperati i farmaci che non hanno necessità di conservazioni particolari quindi ad esempio vengono esclusi tutti i farmaci che hanno bisogno di catena del freddo non vengono recuperati i campioni omaggio non vengono recuperati i farmaci stupefacenti quindi viene richiesto ai cittadini di donare solo queste tipologie di farmaci se ci fosse poi un errore o un qualsiasi tipo di problema questi farmaci vengono comunque selezionati poi uno a uno da degli operatori specializzati. Questi farmaci vengono raccolti e selezionati attraverso una procedura che rispetta la normativa nazionale le linee guida della regione Emilia Romagna quindi vengono poi destinati a degli enti di assistenza alle persone in regione o all'estero a seconda un pochino di quelle che sono le caratteristiche del farmaco recuperato e delle esigenze degli enti ad esempio ne abbiamo diversi che si occupano di persone in difficoltà economica o ambulatori sociali associazioni che fanno assistenza domiciliare a persone malate e poi altri appunto che inviano i farmaci in progetti di cooperazione decentrata all'estero. Raccogliere i farmaci usati da una seconda vita a un strumento di salute e di benessere per la cittadinanza e di fatto può anche corrispondere a un importante risparmio economico per molte famiglie. Non è solo un gesto attento all'ambiente è anche un gesto di solidarietà quindi tra noi cittadini è anche un gesto di grande importanza e di valore della valorizzazione del territorio che sappiamo bene che questo progetto è stato molto ben accetto dai ferraresi e da molti anni vede una forte partecipazione sia dalle farmacie che dai ferraresi stessi quindi è un progetto che abbiamo a cuore e che vogliamo continuare a coltivare e far andare avanti. Parliamo di ambiente adesso di inquinamento nuovo bollino rosso per lo smog in tutte le province dell'Emilia-Romagna e anche a Ferrara tornano infatti da oggi e fino a lunedì le misure emergenziali previste dalla manovra anti-inquinamento della regione sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle polveri PM10 lunedì prossimo ci sarà un nuovo controllo allora cosa comporta tutto ciò è estendere il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l'area inclusa dei centri abitati interessati dai provvedimenti questo di giorno dalle 8.30 alle 18.30 sempre fino a lunedì poi ci aggiorneremo con i nuovi controlli parliamo ancora di economia adesso e della nuova stagione di investimenti che è quella prevista nel Ferrarese come emerso dalla consulta provinciale per l'economia e il lavoro sentiamo recovery fund fondi europei le opportunità del patto per il lavoro e per il clima della regione Emilia-Romagna questi alcuni dei canali di finanziamento ricordati dalla consulta provinciale per l'economia e il lavoro che dovrebbero essere utilizzati durante una nuova stagione di investimenti a definire così il futuro economico sul territorio ferrarese è stato il vicepresidente della provincia di Ferrara Nicola Minarelli durante l'incontro della consulta provinciale per l'economia e il lavoro i problemi legati alla pandemia esordito si aggiungono alle debolezze storiche del territorio estense ma ci sono delle opportunità inedite da cogliere ha aggiunto Minarelli l'obiettivo della consulta provinciale è quello di portare a sintesi un progetto comune una sorta di focus Ferrara del patto per il lavoro regionale perché ha ribadito il vicepresidente il momento di stare insieme oltre a questi temi i posti in risalto l'assessore al bilancio della regione Emilia-Romagna e il ferrarese Paolo Calvano ha parlato di infrastrutture durante la consulta specie in prospettiva della zona logistica semplificata con perno sulla realtà portuale di Ravenna oltre che della difesa della costa dal punto di vista operativo infine Calvano ha assicurato massima disponibilità degli uffici della regione come supporto tecnico per accompagnare la consulta nella redazione del focus Ferrara del patto per il lavoro e il clima al via i ristori per le imprese commerciali di Copparo a partire dall'ore 10 di lunedì prossimo 22 febbraio e fino al 16 aprile le imprese copparesi potranno presentare domanda alla Camera di Commercio di Ferrara per ottenere un contributo una tantum a fondo perduto di 1000 euro 100.000 gli euro le risorse distanziate dal comune per sostenere le aziende risorse che grazie a un'intesa tra comune e Camera di Commercio verranno gestite proprio da lente di Largo Castello tutto questo è per sostenere le imprese in difficoltà in questa emergenza coronavirus ma ieri mattina si è tenuta la conferenza stampa sentiamo il presidente il commissario della Camera Govoni e il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni la nostra risposta anche su questo bando in termini di velocità di erogazione del contributo sarà velocissima dico perché anche questo ha un'importanza fondamentale per quello che riguarda le imprese ovviamente lo dico con grande chiarezza siamo consapevoli che questo bando non risolverà da solo i problemi di tutte le imprese che sono problemi in particolare in questo periodo storico molto molto grande però vi posso garantire che ogni volta capita spessissimo che un'impresa riceveva un contributo ci chiama ci ringrazia per non essere stati lasciati soli quindi c'è anche questo senso al di là dell'aiuto economico di vicinanza delle istituzioni che è un fatto anche questo secondo me molto importante è evidente di come le imprese sul territorio da una parte ma credo anche gli istituti locali dall'altra oggi abbiamo ancora bisogno della Camera di Commercio della nostra Camera di Commercio della Camera di Commercio pienamente funzionante e probabilmente in un periodo storico come questo dove ci dovremmo io mi auguro veramente a prestare in quest'annata del 2021 a compiere un doppio passo cioè dobbiamo recuperare quello che il Covid e l'emergenza sanitaria ci hanno tolto nell'ultimo anno ma fare un ulteriore passo in avanti perché dobbiamo recuperare tutto quello che non ci è stato permesso di pianificare di programmare di progettare in termini economici di crescita e di sviluppo del nostro territorio che avremmo dovuto fare appunto durante quest'anno quindi un doppio passo un recupero ma soprattutto anche un nuovo orizzonte e da venerdì 5 marzo prossimo prende il via il progetto Make in Fe un programma di esperienze per bambini e ragazzi alla scoperta del territorio ferrarese insieme a laboratori tecnologici di approfondimento l'iniziativa è promossa da Comune di Ferrara cooperativa sociale CIDAS con la collaborazione del laboratorio aperto ex Teatro Verdi e con questa notizia è tutto per questa edizione vi lascio a match alla partita reale a Vicenza Spal grazie e buon sabato a buon sabato a a buon sabato a buon sabato a buon sabato buon sabato